Prendersi cura di un giardino, abbellire un edificio di proprietà comunale, realizzare delle opere di arte di strada fino alla pulizia di un'area comune. Il senso civico e l'impegno di chi vive in un quartiere, dal centro alle periferie, possono stimolare le azioni condivise che migliorano la sua vivibilità. Gesti che in ogni caso richiedono anche un'autorizzazione, spesso la burocrazia ci mette del suo e non poco. Ora un nuovo regolamento disciplina la partecipazione attiva dei cittadini di Termoli. Approvato in prima commissione in Consiglio Comunale, è stato presentato dai consiglieri Andrea Casolino, Giovanni Di Tella e Salvatore Di Francia. Si tratta di uno strumento di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. Singoli, famiglie, comitati e associazioni, tutti possono presentare una manifestazione di interesse che in sostanza punta a migliorare il decoro e la friubilità di un arredo urbano, di altri spazi o edifici attraverso interventi di recupero, anche valorizzando le varie forme dell'arte. Un'opportunità già diffusa in altre città che rientra in un patto di collaborazione e di responsabilità per cambiare in meglio il volto e anche la funzione di alcune aree. A breve sarà pubblicata una lista di tutti i beni che potranno essere indicati nei progetti di intervento e non escludono tra l'altro un contributo dell'amministrazione per le spese sostenute. Le proposte non mancano e il nuovo regolamento andrà a velocizzare le procedure per favorire anche pratiche di gestione e condivisa di un servizio.